Aveva deciso che io dovevo morire, non potevo lasciarlo dopo tanti anni. Mi convince ad incontrarlo per l'ultima volta. Mi ha sparato otto colpi di pistola. Io da 18 anni vivo su una sedia a rotelle. Avrei voluto che qualcuno gli avesse fatto capire che questo non è amore. Grazie.